Persi. Persi fissò la tena Parthenos, aspettandosi che la statua lo scaraventasse a terra. Grazie al nuovo sistema meccanico di sollevamento creato da Leo, avevano calato con estrema facilità la statua sul fianco di una collina. Dall'alto dei suoi dodici metri, la dea guardava serenamente il fiume Acheronte. La veste d'oro era come metallo fuso al sole. «Incredibile!» esclamò Reina. Aveva ancora gli occhi rossi di pianto. Poco dopo l'atterraggio sul Largo 2, il suo Pegaso, Scipione, era crollato, sopraffatto dalle unghiate velenose di un grifone che lo aveva attaccato la notte prima. Con il proprio pugnale dorato, Reina aveva posto fine alla sofferenza del Pegaso, trasformandolo in polvere, che si era sparsa nell'aria fragrante della Grecia. Forse non era una brutta fine per un cavallo volante, ma lei aveva perso un amico fedele. E aveva già rinunciato a troppe cose nella vita, pensò persi. Reina girò intorno all'Atena Partenos, con circospezione. «Sembra nuova di zecca!» «Sì!» disse Leo. «Le abbiamo tolto le ragnatele e l'abbiamo ripulita un po'. Non è stato difficile!» Largo 2 alleggiava sopra di loro. Mentre Festus teneva d'occhio eventuali minacce sul radar, l'intero equipaggio aveva deciso di pranzare sul fianco della collina per discutere sul da farsi. Dopo le ultime settimane, Persi era convinto che si meritassero un bel pranzo tutti insieme. Purché non fosse acqua di fuoco o zuppa di drago, andava bene tutto. «Ehi, Reina!» chiamò Annabeth. «Mangia qualcosa! Unisciti a noi!» La ragazza portoricana li scrutò aggrottando le sopracciglia, come se quelle parole «unisciti a noi» non le suonassero bene. Persi non l'aveva mai vista prima senza l'armatura, che era rimasta a bordo per essere riparata da Buford, il tavolino delle meraviglie. Reina indossava un paio di jeans e una maglietta del Campo Giove, e sembrava quasi una ragazza normale, tranne che per il pugnale alla cintura e l'espressione guardinga, come se fosse pronta a reagire a un attacco da qualsiasi direzione. «E va bene», rispose dopo qualche secondo. I ragazzi si strinsero per farle spazio nel cerchio. Reina si mise a gambe incrociate accanto ad Annabeth, prese un sandwich al formaggio e gli diede un piccolo morso sul bordo. «Allora, Frank Zhang pretore?» Il figlio di Marte si spostò e si tolse alcune briciole dal mento con una mano. «Beh sì, promozione sul campo». «Per guidare una legione diversa», notò Reina. «Una legione di spiriti». Hazel prese Frank a braccetto con fare protettivo. Dopo un'ora in infermeria stavano entrambi molto meglio, ma Persi intuì che non sapevano cosa pensare del loro capo al Campo Giove che passava a trovarli per pranzo. «Reina, avresti dovuto vederlo», intervenne Jason. «È stato strepitoso», concordò Piper. «Frank è un leader», insistette Hazel. «È un pretore fantastico». Reina lo soppesò a lungo con lo sguardo. «Vi credo», disse infine. «E approvo». Frank sbatte le ciglia. «Davvero? Un figlio di Marte, l'eroe che ha contribuito a recuperare l'aquila della legione». Reina sorrise. «Direi che posso collaborare con un semidio del genere. Mi domando solo come convincere la dodicesima fulminata». Frank aggrottò la fronte. «Sì, me lo sono chiesto anch'io». Persi non riusciva ancora a capacitarsi di quanto Frank fosse cambiato. Definirlo uno scatto di crescita adolescenziale era riduttivo. Come minimo era otto centimetri più alto, meno tozzo e più massiccio. Somigliava a un giocatore di rugby. La faccia sembrava più decisa, la linea della mandibola più dura. Era come se si fosse trasformato in un toro e poi di nuovo in un essere umano, mantenendo però qualche traccia della natura taurina. «La legione ti darà ascolto, Reina», disse Frank. «Sei riuscita ad arrivare fin qui, da sola, attraverso le antiche terre». Reina masticava il panino come se fosse di cartone. «Sì, ma così ho infranto le leggi della legione». «Cesare infranse la legge quando attraversò il rubicone», replicò Frank. «I grandi leader devono rompere gli schemi ogni tanto». Reina scosse la testa. «Io non sono, Cesare. Dopo aver trovato il biglietto di Jason nel palazzo di Diocleziano, rintracciarvi è stato facile. Ho solo fatto quello che ritenevo necessario». Persi non poteva fare a meno di sorridere. «Reina, sei troppo modesta. Volare dall'altra parte del mondo da sola per rispondere all'appello di Annabeth, perché sapevi che era la nostra migliore opportunità per fare la pace? Altro che essa da eroi!» Visse il semidio tornato sano e salvo dal tartaro. Reina si strinse nelle spalle. «Lui è stato aiutato», precisò Annabeth. «Oh, ovviamente!» Reina sorrise. «Senza di te, dubito che Persi riuscirebbe a uscire da un sacchetto di carta». «Vero?» concordò Annabeth. «Ehi!» si lamentò Persi. Gli altri si misero a ridere e Persi si godette quella buon'aria presa in giro. «Era bello vederli contenti», si disse. «Cavoli, era bello essere tornati nel mondo dei mortali, respirare aria priva di veleni e godersi il sole vero sulla schiena». All'improvviso pensò a Bob. «Salutate il sole e le stelle da parte mia!» E il suo sorriso si spense. Bob e Damaseno avevano dato la vita perché lui e Annabeth potessero starsene seduti lì, a godersi il sole e a ridere con gli amici. Non era giusto. Leo estrasse un minuscolo cacciavite dalla cintura degli attrezzi. Infilò una fragola ricoperta di cioccolato e la passò a Hedge. Poi tirò fuori un altro cacciavite e ne agganciò un'altra per sé. «Allora, domanda da venti milioni di pesos. Abbiamo una statua di Atena alta a dodici metri. Cosa ne facciamo?» Reina guardò l'Atena Parthenos. «Per quanto stia bene su questa collina, non ho fatto tutta questa strada per ammirarla. Stando ad Annabeth, un leader romano deve restituirla al Campo Mezzosangue. Ho capito bene?» Annabeth annui. «Ho fatto un sogno giù nel... insomma, sì, nel Tartaro. Ero sulla collina del Campo Mezzosangue e la voce di Atena diceva, «Io devo ergermi qui e dovranno portarmi i romani». Persi osservò la statua un po' a disagio. Non aveva mai avuto un gran rapporto con la madre di Annabeth. Si aspettava sempre che la statua della grande mamma tornasse in vita e gli desse una bella strigliata per aver cacciato sua figlia in un mucchio di guai, o che magari lo calpestasse senza dire una parola. Nico annui. In effetti, mi pare una cosa sensata. Persi trassalì. Sembrava che Nico gli avesse letto nel pensiero e concordasse sul fatto che Atena dovesse calpestarlo. Il figlio di Ade era seduto dalla parte opposta del cerchio. Mangiochiava solo mezza melagrana, il frutto degli inferi. «La statua è un simbolo potente», riprese Nico. «Un comandante romano che la restituisce ai greci. Potrebbe sanare l'antica frattura? Magari perfino guarire la doppia personalità degli dèi». Edge trangugiò la fragola insieme a un cacciavite. «Ehi, un attimo! Io apprezzo la pace, quanto ogni sa... Lei detesta la pace», lo interruppe Leo. «Il fatto è, Valdes, che siamo a... quanto? A pochi giorni di distanza ad Atene. C'è un esercito di giganti che ci aspetta. Ci siamo dati tutta quella pena per recuperare questa statua. Io soprattutto me la sono data», gli ricordò Annabeth. «Perché la profezia parlava del flagello dei giganti», continuò Edge. «Perché non la portiamo ad Atene con noi! È la nostra arma segreta, è chiaro!» Osservò l'Atena Parthenos. «A me sembra un ottimo missile. Se Valdes vi attaccasse dei motori...» Piper si schiarì la gola. «Fantastica idea, Coach, ma tanti di noi hanno avuto sogni e visioni su Gea al campo mezzosangue!» Sguainò il pugnale e lo appoggiò sul piatto. In quel momento la lama di Catoptris non mostrava altro che il cielo, ma Persi si sentiva disagio soltanto a guardarla. «Da quando siamo tornati a bordo, ho visto spesso delle cose brutte sul pugnale», continuò Piper. «Il campo mezzosangue è quasi a tiro della legione romana. Stanno radunando rinforzi, spiriti, aquile, lupi». «Ottaviano!» ringhiò Reina. «Gli avevo detto di aspettare!» «Quando prenderemo noi il comando? Il nostro obiettivo principale sarà caricare Ottaviano sulla catapulta più vicina e spararlo il più lontano possibile», suggerì Frank. «D'accordo», disse Reina. «Ma per il momento vuole la guerra», intervenne Annabeth. «E l'avrà, a meno che noi non lo fermiamo». Piper girò la lama del pugnale. «Purtroppo non è tutto. Ho visto immagini di un eventuale futuro. Il campo in fiamme, i semidei romani e greci che giacciono morti». E Gea le mancò la voce. Persi ripensò al dio Tartaro che si stagliava sopra di lui. Non si era mai sentito tanto inerme e terrorizzato. Ardeva ancora di rabbia, ricordando come gli fosse sfuggita la spada di mano. «Sarebbe come tentare di uccidere la terra», aveva detto Tartaro. Se Gea era così potente e aveva un esercito di giganti al fianco, Persi non capiva come sette semidei avrebbero potuto fermarla, soprattutto quando la maggior parte delle divinità era fuori uso. Dovevano fermare Gea prima che si destasse, altrimenti era la fine. Se la Tana Partenos era un'arma segreta, portarla ad Atene era piuttosto allettante. Cavoli, a Persi non dispiaceva per niente l'idea di utilizzarla come missile e far saltare Gea in aria in una bella esplosione divina, come aveva proposto Hedge. Purtroppo, l'istinto gli diceva che Annabeth aveva ragione. La statua doveva tornare a Long Island, dove forse sarebbe riuscita a fermare la guerra fra i due campi. «Reina prende la statua», disse il figlio di Poseidone, «e noi proseguiamo verso Atene». Leo scrollò le spalle. «Per me va bene, ma c'è qualche spiacevole problemino logistico. Abbiamo due settimane prima del giorno della festa romana in cui Gea dovrebbe risorgere, giusto? La festa della speranza è il primo agosto», disse Jason. «Oggi è il 18 luglio». Frank annuì. «Per cui sì, a partire da domani, due settimane esatte». Eisel trasalì. «Ci abbiamo messo 18 giorni per arrivare da Roma qui. Un viaggio che doveva durare due o tre giorni al massimo. Per cui, vista la nostra solita fortuna, forse avremo abbastanza tempo per portare Largo Due ad Atene, trovare i giganti e impedire loro di destare Gea. Forse». Leo scossi il capo. «Ma come farà Reina a riportare questa enorme statua al campo mezzosangue prima che i greci e i romani si infilino a vicenda nel tritacarne? Non ha neanche più il Pegaso. Eh, scusa». «Tranquillo», ribattesse Careina. Poteva anche trattarli come alleati invece che come nemici, ma persi intuì che Reina non aveva esattamente un debole per Leo. Forse perché aveva fatto saltare per aria a mezzo foro a Nuova Roma. Reina trasse un respiro profondo. «Purtroppo ha ragione Leo. Non so come potrò trasportare una cosa così grossa. Supponevo... beh, speravo che aveste voi una soluzione». «Il labirinto!» esclamò Hazel. «Cioè, se Pasifa è là davvero riaperto, come in effetti credo...» Guardò Persi. «Beh, hai detto che il labirinto può portare ovunque si vuole. Per cui magari...» «No», dissero Persi e Anna betta all'unisono. «Non per bocciare la tua idea, Hazel», proseguì il figlio di Poseidone. «È solo che...» si sforzò di trovare le parole giuste. Come poteva descrivere il labirinto a qualcuno che non lo aveva mai esplorato. Dedalo lo aveva creato per essere un groviglio di cunicoli vivo in espansione. Nel corso dei secoli si era diffuso sotto l'intera superficie terrestre, come le radici di un albero. Certo, poteva condurre ovunque. Le distanze al suo interno erano prive di significato. Si poteva imboccarlo a New York, camminare tre metri e sbucare a Los Angeles, ma soltanto se si trovava un modo affidabile di spostarsi. Altrimenti, il labirinto ingannava e tentava di uccidere a ogni angolo. Quando la rete di gallerie era crollata dopo la morte di Dedalo, Persi aveva tirato un sospiro di sollievo. L'idea che il labirinto si rigenerasse, scavando di nuovo il proprio sentiero sotterraneo e fornendo una nuova casa spaziosa a uso dei mostri. Beh, non lo entusiasmava. Avevano già abbastanza problemi. Tanto per cominciare, i corridoi del labirinto sono troppo piccoli per l'Atena Partenos, continuò il figlio di Poseidone. Non c'è verso che tu possa portarla laggiù, Reina. E poi, anche se il labirinto si sta riaprendo, non sappiamo come sia adesso, continuò Annabeth. Era già abbastanza pericoloso prima, sotto il controllo di Dedalo, che non era malvagio. Se Pasifai ha ricreato il labirinto come voleva lei... Scosse la testa. Hazel, forse i tuoi sensi sotterranei potrebbero guidare Reina là dentro, ma nessun altro potrebbe riuscirci. E tu ci servi qui, se poi vi perdeste laggiù. Hai ragione, disse Hazel in tono cupo. Non importa. Reina lanciò un'occhiata al gruppo. Altri idee? Io potrei andare, propose Frank, poco convinto. Visto che sono pretore dovrei andare. Forse potremmo attrezzare una specie di slitta o... No, Frank Zhang. Reina gli rivolse un sorriso stanco. Mi auguro che lavoreremo fianco a fianco in futuro. Ma per il momento il tuo posto è qui, con l'equipaggio della nave, tra i sette della profezia. Io non sono uno dei sette, intervenne Nico. Smisero tutti di mangiare e lo fissarono, tentando di capire se scherzasse. Hazel appoggiò la forchetta. Nico, andrò io con Reina, disse il figlio di Ade. Posso trasportare la statua viaggiando nell'ombra. Per si alzò una mano. Insomma, so che ci hai appena portati tutti e otto in superficie ed è stato fantastico. Ma l'anno scorso hai detto che trasportare solo te stesso era pericoloso e imprevedibile. Un paio di volte sei finito in Cina. Spostare una statua di dodici metri e due persone dall'altra parte del mondo. Sono cambiato da quando sono tornato dal tartaro. Gli occhi di Nico scintillavano di rabbia più intensa di quanto Percy riuscisse a comprendere. Tanto che questi si domandò se lo avesse offeso in qualche modo. Nico, non stiamo mettendo in dubbio il tuo potere, intervenne Jason. Vogliamo solo assicurarci che tu non ti uccida provandoci. Posso farcela, insistette il figlio di Ade. Farò dei salti brevi, qualche centinaio di chilometri alla volta. È vero, dopo ogni salto non sarò abbastanza in forma da respingere i mostri. Avrò bisogno di Reina per difendere me e la statua. L'espressione di Reina era insondabile. Osservò il gruppo senza lasciar trapelare alcun pensiero. Obiezioni? Nessuno disse niente. Benissimo, riprese, con il tono irrevocabile di un giudice. Le mancava solo il martelletto da battere sullo scranno, pensò Percy. Non vedo alternative migliori, ma ci saranno molti attacchi da parte dei mostri. Mi sentirei meglio se portassimo con noi una terza persona. Tre è il numero ideale per una missione. Edge! Si lasciò sfuggire Frank. Percy non era sicuro di aver capito bene. Come dici? Il coach è la scelta migliore, riba di Frank. L'unica scelta. È bravo a combattere. È un protettore certificato. Farà il proprio dovere. Reina aggrottò la fronte. Un fauno. Un satiro, precisò Edge. Sì, ok, andrò io. E poi, quando arriverete al campo mezzosangue, mi servirà qualcuno che abbia i contatti e l'abilità diplomatica necessari per impedire ai greci di attaccarvi. Faccio solo una chiamata. Volevo dire, vado solo a recuperare la mia mazza. Si alzò e lanciò a Frank un tacito messaggio, del tutto incomprensibile per gli altri. Si era appena offerto volontario per una missione probabilmente suicida, eppure sembrava grato. Trotterellò verso la retta della nave, battendo gli zoccoli come un bambino eccitato. Nico si alzò. Devo andare anch'io a riposare prima di partire. Ci vediamo davanti alla statua, al tramonto. Quando se ne fu andato, Hazel aggrottò la fronte. Si comporta in modo strano. Non so se ci ha riflettuto abbastanza. Se la caverà, disse Jason. Mi auguro che tu abbia ragione. Hazel passò una mano a terra. Numerosi diamanti spuntarono in superficie. Una via lattea di pietre scintillanti. Siamo a un altro bivio. L'Atena Parthenos si dirige a ovest. Largo 2 a est. Speriamo di aver scelto bene. Persi avrebbe voluto dire qualcosa di incoraggiante, ma era turbato. Nonostante tutto quello che avevano passato e tutte le battaglie che avevano vinto, la sconfitta di Gea sembrava ancora lontana. Certo, avevano liberato Thanatos, avevano chiuso le porte della morte. Perlomeno, adesso riuscivano a uccidere i mostri e a farli rimanere nel tartaro per un po'. Ma i giganti erano tornati. Tutti. C'è una cosa che mi preoccupa, disse. Se la festa della speranza è fra due settimane e a Gea serve il sangue di due semidei per ridestarsi, il sangue dell'Olimpo, ha detto Clizio, allora non facciamo proprio quello che lei vuole dirigendoci ad Atene. Se invece non ci andassimo e Gea non potesse sacrificare nessuno di noi, forse non potrebbe risvegliarsi del tutto. O no? Annabeth gli prese la mano. Adesso che erano tornati nel mondo dei mortali, senza più la foschia della morte, Percy la guardava incantato, ammirando i suoi capelli biondi che rilucevano al sole. Anche se era ancora pallida e magra, come lui, e i suoi occhi grigi erano tempestosi e colmi di pensieri. Percy, le profezie sono a doppio taglio, disse la figlia di Atene. Se non andiamo, potremmo perdere la nostra migliore e unica opportunità di fermarla. È ad Atene che combatteremo la nostra battaglia finale. Non possiamo evitarlo. E poi tentare di opporsi a una profezia non funziona mai. Gea potrebbe catturarci da un'altra parte, oppure versare il sangue di altri semidei. Sì, hai ragione, ammise Percy. La cosa non mi piace, ma hai ragione tu. L'umore del gruppo si fece tetro come l'aria del tartaro. Fuppai per aspezzare la tensione. Bene, rinfoderò il pugnale e diede una pacca alla cornucopia. È stato un bel picnic. Chi vuole il dolce?